14 mesi dopo la visita ispettiva del consigliere regionale Paolo Pagliaro all'ex ospedale di Poggiardo, le criticità e le carenze fotografate il 28 aprile 2023 restano pressoché risolte. Emerso nell'audizione in Commissione Sanità del Consiglio regionale a cui hanno partecipato il sindaco di Poggiardo Antonio Ciriolo, la direttrice del distretto sociosanitario Virna Rizzelli, il dirigente del Dipartimento Promozione della Salute Mauro Nicastro, è difficile, nonostante l'abnegazione alla professionalità del personale impegnato nel PTA, garantire servizi sanitari di prossimità efficienti alla popolazione dei 15 comuni del distretto, la carenza di medici impedisce di assicurare ricambio degli specialisti e questo limita o addirittura blocca l'operatività degli ambulatori, a ciò si aggiungono problemi strutturali e logistici che cominciano dall'esterno del presidio, corringhiere e muri scrostati e si ritrovano nelle sale operatorie, nella farmacia allocata negli scantinati, in ambienti spesso arrangiati, anche la strumentazione è carente, nonostante l'acquisto di due elettrocardiografi e altri nuovi apparecchi, ce ne sono molti vetustie da cambiare, un esempio su tutti la poltrona odontoiatrica, oramai fuori uso, pezzo da museo. In radiologia è stato da poco sostituito il telecomandato rotto, ma c'è una sola specialista radiologa e in sua assenza il servizio si ferma, unica nota positiva, l'arrivo di un neurologo che ha consentito di riattivare il centro demenze, il servizio di alisi funziona, ma il nefrologo è prossimo al pensionamento e non si sa come sostituirlo e gli spazi vanno ampliati, da potenziare anche la neuropsichiatria infantile, da ripristinare i 15 posti della comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica, eliminati per inagibilità della vecchia struttura, un elenco che il consigliere Pagliaro ha scandito punto per punto in audizione, ricevendo risposte ancora una volta declinate al futuro. Ci auguriamo che le prossime volte ci sia un lasso di tempo minore tra l'ispezione e l'audizione in commissione, ma la cosa più grave è che non è cambiato nulla, ma ancora più grave è che ancora una volta non si è presentato in commissione il direttore generale Rossi e l'assessore presidente Emiliano, assessore della sanità, saranno impegnati probabilmente in campagna elettorale e lasciano da parte le esigenze invece dei territori e dei cittadini pazienti, che sono in condizioni drammatiche, un po' come tutto il sistema sanitario in provincia di Lecce. Noi abbiamo segnalato in tante occasioni le cose che non vanno, non soltanto appoggiarlo, ma qui siamo rimasti a essere fatti e dopo 14 mesi nulla è cambiato. Anche la stessa responsabile, direttrice del distretto, lo stesso sindaco, che ha fatto una riunione utilissima insieme ai 15 sindaci del distretto, hanno registrato esattamente tutte le criticità che noi avevamo evidenziato 14 mesi fa. Nulla è cambiato e quindi continueremo a battere sul tasso della riorganizzazione e della ristrutturazione di questi PTA, così come gli ospedali della provincia di Lecce, perché in attesa del famoso ospedale Maglio e Malpignano i cittadini hanno bisogno di risposte, perché il diritto alla salute è un diritto sacrosanto e primario e noi continueremo questa battaglia per una buona sanità in provincia di Lecce. C'è una disattenzione da parte dei vertici regionali dell'ASL verso il PTA di Poggiardo che è molto preoccupante e noi abbiamo chiesto insieme al consigliere Pagliaro di avere tutte le esigenze trasferite alla direzione generale per capire come è possibile risollevare una situazione che è veramente drammatica. Va fatta una programmazione che sicuramente la regione chiederà anche all'ASL, insieme a noi saremo da stimolo all'ASL perché si faccia quello che è stato evidenziato e soprattutto a vantaggio dei territori, dei sindaci, dei cittadini.